ciao allora oggi vi voglio parlare di questa crema viso della geomar si tratta di una crema viso dice di essere illuminante anti età con fiore di iris bio 95% di prodotto di origine naturale e dice di essere senza parabeni senza siliconi senza coloranti senza oli minerali senza profumo e senza allergeni quindi senza tutto oltretutto l'inci è davvero buono non è completamente verde ma comunque sia è buono 50 ml di prodotto prezzo di vendita consigliato di 5 euro e 99 ma io l'ho trovata in offerta quindi ancora meno e che per essere un prodotto intanto è una crema viso valida ma poi ve ne parlerò ma per essere con una composizione così buona a un prezzo così basso io direi non fatevelo scappare allora la crema come vedete ho davvero davvero finito ha una profumazione abbastanza fresca fiorita, floreale che però non persiste sulla pelle la texture è morbida, si applica molto bene, si stende molto bene ma si asciuga velocemente e e e e e e e e Io di giorno utilizzo i seri, ma questa l'ho applicata tranquillamente tutte le sere ed alla mattina non ho la pelle unta, quindi la mia pelle mista è una valida prova e questo davvero è un buon prodotto, è una crema idratante, idrata davvero molto va bene sulla pelle mista comunque tranquillamente, non irrita la pelle azione antità, va bene, un'azione idratante che comunque sia tende ad idratare la pelle quindi previene la formazione di rughe, sicuramente io dico che per il prezzo che ha, con la composizione buona che ha, ve la consiglio sicuramente se vi piacciono i prodotti viso e state attenti a che cosa vi spermate sulla pelle vi consiglio di dare un occhio a questo marchio perché fa dei prodotti davvero validi a un prezzo accessibile e in particolare alla crema viso perché davvero è stata un'ottima scoperta fatemi sapere se avete provato questo prodotto o qualcuno di questa linea viso e fatemi sapere come si trovate ovviamente spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale così non perdete la prossima recensione beauty e io vi do appuntamento alla prossima recensione mi raccomando, clicca sulla campanella per essere avvisato essere avvisato quando carico un nuovo video beauty e alla prossima, ciao!